Sì, diciamo che i punti, se fosse boxe avremmo vinto noi. La sconfitta sarebbe stato un risultato ingiusto per quanto fatto dai ragazzi in campo. Incomiabili. Inizio della partita Kaidi ha un problema a polpaccio, gioca a Shiva un 2001. Si fa male Thomas, Boris e quindi anche la devi andare a cambiare e mettere qualche giocatore fuori ruolo. Sono stati bravi ragazzi, è incomiabile, al di là del risultato. Logico che se avessimo perso l'amarezza era tanta perché non meritavamo per atteggiamento, per spirito. E quindi sono contento per i ragazzi perché queste prestazioni poi sono frutto di voglia, di determinazione e permettetelo di dirmi anche di un pizzico di organizzazione. Ecco, un risultato così quanto va a migliorare la convinzione e il morale della sua? Voglio essere pesante come lo sono sempre, va dimenticato in fretta. Va dimenticato in fretta tutto ciò che è stato fatto, positivo, va lasciato alle spalle e pensare a quella che è già la prossima partita. Non possiamo cullarci, proprio questa è la mentalità che deve avere chi fa uno sport agonistico. Quindi siamo contenti bene, da martedì i ragazzi devono paradossalmente non sapere il risultato della partita passata perché bisogna andare sempre forti. Giusto. Oggi come stava accenando prima ha avuto un problema con Caidi nel riscaldamento, ha voluto fare qualche improvvisazione per trovare dei centrali da adattare in quel ruolo. Nonostante questo nel primo tempo la Samba non ha tirato in porta e anche nel secondo tempo la difesa è stata molto attenta. Possono avere un futuro in per ruolo i giocatori? Diciamo che noi è tipicamente italiano che se giochi dieci metri più avanti, dieci metri più dietro, più dentro al campo cerchiamo sempre l'alibi. Quindi Zanoni per la prima volta ha fatto il terzo di sinistra e ha fatto una gran partita. Lo stesso Shiba è un terzino, ha fatto il terzo. Voglio dire che il campo e le misure sono le stesse e sono i principi. I ragazzi devono capire che il campo è uguale dappertutto. Non è un discorso di cinque metri più avanti. Quindi perché no? Trovare giocatori eclettici è importante per l'allenatore ed è giusto fare più ruoli. Tanto bisogna giocare come, dove, quando e quindi sapere in ogni situazione come comportarsi. Quindi ripeto, non era facile perché Paolo Marchi giovedì si fa male e fa giocare Zanoni che non ha mai fatto il terzo. Che Eddie durante l'escaldamento si fa male e fa giocare Shiba che il terzo forse l'ha fatto due volte. Non era facile. Poi con l'infortunio di Brolin devi cambiare. Però avevo chiesto lo spirito ai ragazzi e loro hanno messo tutto in campo. Però invece da pensare alla prossima. Giusto. Pensando alla prossima le faccio l'ultima domanda. Se si ha già un'idea di cosa sia successo a Boris, perché abbiamo visto molto dolore. No, non lo so, non lo so cosa, non ho parlato con il medico, quindi non lo so. Spero e mi auguro che non abbia niente per il ragazzo. Quindi lo spero per lui perché... Ci ha fatto una gran partita. Sì, 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 ma va al di là di quello anche se avesse fatto una brutta partita. Sì, sì. Mi auguro che non abbia niente con tutto il cuore. Ok, grazie mille mister. Prego.